La risposta è forse la più importante, cioè dopo l'intervista ai tagliani di questa mattina che su Repubblica rilancia e in qualche modo dice siamo pronti a votarla, questa norma, Salvini dice attento che lì ci sono le colonne d'Ercole. Renzi, sempre prima da politologo e poi da sicuramente tifoso dello Juscole e dello Jussoli, che cosa succede se Forza Italia si smarca davvero e poi pensa che Forza Italia si possa smarcare sullo Juscole? Secondo me Tajani è sortentenna, non lo fa, però c'è un testo pronto, perché c'è un accordo fatto allora da Maurizio Lupi, che era il capogruppo dell'NCD, cioè del partito di moderati di destra che sosteneva il governo mio e poi quello di Paolo Gentiloni, che è un testo già votato alla Camera, cioè lo Jus Kulture, Jus Skole, Jus Soli Temperato, chiamatelo come volete, è stato approvato in un ramo del Parlamento. Poi Gentiloni non ebbe la forza di mettere la fiducia nel 2017. Anche lei fece un errore e non vuole. No, io avevo messo la fiducia sulle unioni civili, demmo la precedenza alle unioni civili. Però non se la sentì allora. No, non c'era in Parlamento, non era in agenda. Se viene votato ora che succede? No, no, questo ci tengo molto, perché era una battaglia storica nostra dai tempi in cui ero sindaco. Noi abbiamo portato alla Camera l'approvazione di quel testo, con la mediazione Boschi-Lupi. Quella mediazione lì ha dato un testo di legge approvato in prima lettura e che la parte di Lupi... Se si votasse oggi... E noi l'abbiamo ripresentata. Oggi, prima di venire in trasmissione, noi abbiamo ripresentato alla Camera questa proposta di legge che è la stessa Lupi Boschi. Quindi se forse Italia votasse, passerebbe. Se i Cinque Stelle non bleffano come fecero l'altra volta. Ma la domanda è, cade il governo poi, Renzi, da analista serio di quegli equilibri? Cade il governo con questo Salvini? Sì, ma infatti i Tajani non lo faranno mai. Sì. Questo è il punto. Quindi i Tajani non lo faranno mai. Ma figuriamoci se i Tajani... È una battaglia troppo identità di avere un centro-destra. Scusi, però anche qui. No, il mondo alla rovescia, non lo diciamo. Di mettere agini, diciamo, ai nuovi italiani, intendo. Ma secondo me non è una battaglia. La battaglia identitaria è garantire... Loro dicono che con nuovi immigrati, con nuovi cittadini non c'è sicurezza. Non hanno capito niente. È il contrario. Se tu dai dei diritti e dei doveri ai cittadini, rendi più forte la sicurezza del Paese. È identitario affermare che la cittadinanza si conquista con un ciclo di studi? Secondo me non li convince neanche così, Renzi. Però non abbiamo il super... Però avete il super spot... Niente. Comunque Tajani, bleffa. Il titolo di Renzi è Tajani, bleffa. Avevo una climax ascendente molto bella, ma la facciamo dopo la pubblicità. Che sa che qua è Sessaga. Arriviamo subito. Pubblicità.